Ti piace il riso? Sì, io adoro il riso. A casa mia mangio cibo coreano. Quindi mangio sempre il riso. E a te? Ti piace il riso? Sì, mi piace il riso. Ma lo mangio raramente. Io mangio spesso il cibo italiano. Quindi mangio spesso il pane. Cucini bene? No, io non cucino molto bene. Però sono molto interessato alla cucina. Mia madre è una cuoca. Quindi lei mi aiuta molto. Po segue. Questa è l'abbiamo. Questa è l'abbiamo.